Ricordi quando Giovanni e Giacomo cercano di capire da dove venga Aldo, o meglio il conte Dracula, chiedendogli cosa sia una cadrega? Il tempo sotto tensione è esattamente la stessa cosa, solo che al posto di una sedia è un complesso e dibattuto argomento tecnico-scientifico ed al posto di giudicare i vampiri ti permette di giudicare i personal trainer. Siccome è un argomento molto dibattuto e poco chiaro, oggi vogliamo spiegarti esattamente in che modo il tempo sotto tensione può aiutarti a ottenere più risultati in meno tempo. In descrizione trovi tutti gli studi scientifici che abbiamo analizzato e che citeremo nel corso della guida, ma ora è tempo di fare luce sul time under tension. Sigla! Il tempo sotto tensione è il tempo complessivo durante il quale i tuoi muscoli rimangono sotto sforzo in una serie o in un allenamento. Se fai una serie da 40 secondi di Carlo, ad esempio, aggiungi 40 secondi al tempo sotto tensione dei tuoi bicipiti. Per capire come possa esserti utile, la prima cosa da cui partire è lo stress muscolare. Più stressi i tuoi muscoli, più otterrai ipertrofia, ho detto banalmente, più li stressi e più li rendi grossi. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma qual è il metodo più efficiente, cioè quello che ci dà il massimo dei risultati con il minimo dello sforzo per generare stress muscolare? La prima risposta potrebbe essere incolonnarsi nel traffico alle 7 del mattino in una strada imbottigliata da neopatentati e monopattini elettrici che fanno slalom tra le auto. In fondo, che cosa c'è di più stressante? Le ricerche però hanno sfortunatamente evidenziato che la collera degli automobilisti non è proporzionale alla dimensione dei loro muscoli e quindi no, non è il tipo di stress che stiamo cercando. Due risposte più plausibili invece sono queste. La prima è aumentare i carichi che usi quando ti alleni. La seconda è aumentare il tempo complessivo durante il quale i tuoi muscoli rimangono sotto sforzo. Sulla prima opzione siamo di nuovo tutti d'accordo. Dal giorno in cui una persona ha sollevato un peso di 5 kg prima e poi uno di 10 kg, si è accorta che sollevare quello da 10 kg è più faticoso, più stressante per i muscoli. Ed è uno dei motivi per cui la filosofia di allenamento di Fitten si concentra così tanto sulla forza e se non lo stai facendo è un motivo per cui dovresti farlo anche tu. La seconda opzione, cioè quella di aumentare il tempo sotto tensione durante l'allenamento, è stata invece molto più dibattuta. Innanzitutto ci si è chiesti se davvero aumentare il tempo sotto tensione possa causare uno stress muscolare che, alla fine, ci porta all'ipertrofia. E la risposta è sì, ma questo lo sapevi già perché hai letto il titolo del video e altrimenti l'avresti trovato chiamato il tempo sotto tensione fa schifo. Diversi studi hanno dimostrato questo, forse quello più interessante è quello dell'International Journal of Clinical Medicine. Con le dovute attrezzature, i ricercatori hanno allenato alcuni atleti usando ripetizioni veloci e carichi elevati, mentre altri atleti hanno seguito un protocollo di ripetizioni lente e carichi bassi. Alla fine dell'esperimento, gli scienziati hanno scoperto che gli effetti sull'ipertrofia sono stati molto simili. Se teniamo conto delle differenze naturali tra un soggetto e l'altro, possiamo dire che alla fine abbiano ottenuto praticamente gli stessi risultati. Ora magari stai pensando, eh beh, problema risolto, no? Ora posso finalmente tornare a scegliere che cosa preferirei tra avere i tre pezzi di Goku e i quadricipidi di Vegeta. Però, no, non è finita qui. Ci sono altre cose importanti da sapere, ad esempio ci sono filosofie diverse per aumentare il tempo sotto sforzo. Qualcuno potrebbe fare più serie ma con un'esecuzione veloce, mentre qualcun altro potrebbe fare meno serie ma con un'esecuzione più lenta. Entrambe le strade portano allo stesso identico risultato, cioè all'aumento del tempo complessivo sotto sforzo, ma una di queste è più efficace per ottenere ipertrofia dell'altra. E nello specifico parliamo della strada che prevede meno ripetizioni ma andando più piano. Curiosamente sappiamo che è così, ma non sappiamo perché. Vari studi come quello del Regional Conference on Science nel 2016 dimostrano questo in modo empirico. Cioè lo fanno prendendo degli atleti, allenandoli in un certo modo e poi misurando i risultati ottenuti. Da queste prove pratiche è emerso che fare meno ripetizioni ma con un time under tension maggiore, funziona meglio di farne tante ma con un minor tempo sotto tensione. Ovviamente il tempo totale tra una versione e l'altra deve essere uguale, altrimenti si perde il senso del discorso. Ora, il punto è che non sappiamo cosa provochi questa differenza. Qualcuno dice che sia l'ipossia, cioè il fatto che ai muscoli arriva meno ossigeno quando facciamo ripetizioni lunghe e questo in qualche modo farebbe adattare le fibre muscolari alle circostanze stimolando l'ipertrofia. Qualcun altro invece sostiene che ci sia una correlazione tra le ripetizioni più lunghe e la produzione di ormone della crescita. Insomma, abbiamo varie ipotesi ma nessuna certezza concreta, esattamente come per il finale di Lost che io penso sia stato tutto un sogno del cane. Benissimo, ora possiamo passare alla parte più pratica, cioè come puoi portare tutto questo all'interno dei tuoi allenamenti in modo da essere sicuro di fare le scelte giuste con le informazioni che hai ricevuto oggi? Partiamo da un'enorme premessa. Questa cosa è incredibilmente soggettiva. In base alla tua scheda di allenamento, ai tuoi obiettivi, alla tua preparazione dovresti agire in un modo diverso. Ricordati che generalizzare, specialmente nel fitness, è praticamente un sinonimo di sbagliare. Detto questo, esistono delle cose che puoi fare. La prima è assicurarti che durante una serie di qualsiasi esercizio il tuo tempo sotto tensione non sia inferiore a 45 secondi. Questa è una media tra vari studi in cui ognuno ha i suoi riferimenti, però volendo appunto mediare tra tutte le ricerche che ci sono, questo è il tempo minimo per essere sicuri di dare un bello stimolo ipertrofico ai tuoi muscoli. In generale, comunque, cerca di non compromettere il carico per favorire il tempo sotto tensione. Il carico è comunque importantissimo, specie negli esercizi fondamentali. Magari nei complementari puoi concentrarti di più sul rallentamento dell'esecuzione per allungare il tempo sotto tensione, ma meglio non farlo nei fondamentali. Tra l'altro, ricordati che se hai spazio ai fondamentali, aumenti in automatico il tuo tempo sotto tensione complessivo. Cioè, gli esercizi multiarticolari allenando tanti muscoli nello stesso momento aggiungono tempo sotto tensione a vari distretti del corpo. Facciamo subito un esempio pratico. Le croci su panca piana allenano il pettorale e una piccola parte del deltoide. Per contro, le spinte con bilanciere su panca piana allenano ancora di più il petto, la stessa parte del deltoide, ma anche i trecipiti, i trapezzi e il dorsale durante la fase negativa. Questo significa che se fai 60 secondi di spinte con bilanciere su panca piana, stai aggiungendo più tempo sotto tensione nel complesso rispetto a quando fai 60 secondi di croci con i manubri. Certo, dipende anche dai risultati che vuoi raggiungere. Cioè, se vuoi l'ipertrofia è così, ma se quello che vuoi è il distanziamento sociale, le croci sono il migliore esercizio per il petto in assoluto. Aprendo e chiudendo le braccia come un'aquila reale dotata di carichi, nessuno potrà posizionare la sua panca vicino alla tua. Da ultimo, ricordati che uno dei migliori modi per aumentare il tempo sotto tensione senza sacrificare il carico è allungare la fase eccentrica degli esercizi. Per i profani, parliamo della fase in cui torni nella posizione di partenza prima di fare un'altra ripetizione. Bene, così anche per oggi è tutto. Ricordati di cliccare sul tasto iscriviti e di attivare le notifiche per non perderti gli altri video come questo. Pace e ghisa a tutti. Fitel passa e chiude. Pace e ghisa a tutti.